Dopo lo stop di due anni causa emergenza sanitaria, domenica 5 giugno con la partenza fissata alle 9 del mattino, riparte la gara podistica La Panoramica. Un percorso di 21 km immersi nel verde del Parco San Bartolo che raccoglierà agonisti sia dalle Marche che dalla Romagna. Un evento organizzato dalla ASD Atletica Centro Storico che quest'anno ha voluto dedicare questa 14esima edizione al socio Sandro Pandolfi, scomparso poco tempo fa. Un'iniziativa dallo scopo benefico, dato che parte del ricavato verrà donato ad Aido, associazione italiana donazione organi. È praticamente una mezza maratona che parte da Piazza Europa di Baia Flaminia di Pesaro e farà un giro di boa dopo 10 km e 500 metri e rientrerà sempre Piazza Europa. È un percorso collinare all'interno del Parco San Bartolo dove saranno previsti quasi 300 atleti da sia Marche che anche Romagna con anche di alto livello. Quindi siamo contenti appunto di far ripartire questa gara di notevole importanza e aspettiamo un po' tutti, anche degli spettatori qua della zona. Ed è anche diciamo una vetrina per mostrare le bellezze paesaggistiche del territorio? Certamente, anche qui è una cosa importante, è giusta a ribadire che Pesaro ha il Parco Naturale San Bartolo che ce lo invidiano un po' tutti, quindi siamo lieti di farlo visitare anche tramite la corsa. La differenza di quest'anno è a livello di percorso, nel senso che prima si svolgeva da Gabizze fino a Pesaro, quest'anno per vari motivi logistici e altro abbiamo pensato di fare andata e ritorno sempre dallo stesso punto. Cosa vincerà e quali saranno i premi e chi verrà premiato? Allora, i premi sono tanti, ci sono i premi chiaramente per le prime posizioni e anche i premi di categoria per le varie fasce di età. I premi sono notevoli, sono bellissimi, sono offerti dallo spazio Conad di Pesaro per una gran parte e poi ecco per i primi chiaramente ci sono dei premi di notevole importanza. Allora, le iscrizioni stanno per scadere, in realtà la maggior parte si è già iscritta, comunque ancora abbiamo qualche giorno, quindi fino a giovedì 2 giugno tramite il sito Endu, è possibile chiaramente per i competitivi, quindi gli agonisti, di iscriversi.